E' stata svolta nel pomeriggio l'autopsia sul corpo di Nicoletta Valente, la 35enne investita la notte tra Natale e Santo Stefano a Vinchiaturo che dopo poche ore non ce l'ha fatta. Tra 90 giorni i risultati, questa mattina c'è stato l'interrogatorio delle 26enne di Baranello che era alla guida dell'auto, l'avvocato Fazio, una disgrazia, il mio assistito è scappato perché ha avuto paura. Arriva il maltempo, attesi accumuli nevosi rilevanti entro domani notte, particolarmente interessate le aree dell'Alto Molise. Edilizia in ginocchio, persi 4.731 posti di lavoro, ennesimo grido d'allarme dell'ACEM, CIS, pronto un consorzio di imprese capace di vincere i bandi più importanti. Viene sollecitato a saldare un debito, si reca allo studio del suo avvocato e lo aggredisce con pugni e calci. Si tratta di un sessantenne di un paese della provincia di Isernia denunciato per lesioni personali gravi. C'è apprezzione tra i fedeli di Colli al Volturno per la salute di Don Vincenzo Frino, il giovane parroco ricoverato in gravi condizioni a San Giovanni Rotondo. Infine lo sport, il basket, domani la Magnolia a Campobasso affronta il Ponte Bugianese nell'ultima gara del 2019. Calcio di serie D, Campobasso a meno 12 dalla vetta. Il centrocampista Brenci ci crede, strada in salita ma tutto è possibile. Ben trovati a tutti voi, nuova edizione del Tg di Teleregione che apriamo parlando ancora della tragica morte di Nicoletta Valente, la 35enne di San Giuliano del Sannio falciata da un'auto. Nella notte tra il 25 e il 26 dicembre nel piano centro di Vinchiaturo è stato interrogato l'investitore il 26enne di Varanello che ieri si era costituito in questura. Non avevo visto questa figura sbucare, ha detto, e sono scappato per paura. Nel pomeriggio è stata eseguita l'autopsia sul corpo di questa sfortunata ragazza. Sentiamo. Al Cardarelli di Campobasso il professore Pietro Antonio Ricci dell'ospedale di Foggia ha svolto l'autopsia sul corpo di Nicoletta Valente, la 35enne falciata da un'auto nella notte tra il 25 e il 26 dicembre scorsi nel tratto della provinciale 52 che attraversa il centro di Vinchiaturo e che nonostante i tentativi dei medici di strapparla alla morte non ce l'ha fatta. I risultati verranno depositati tra 90 giorni e ora si attende che la salma venga restituita ai familiari. Ci sono due comunità in lutto in una vicenda in cui trovano spazio solo dolore e rabbia. Nicoletta, originaria di San Giuliano, si era trasferita da qualche tempo a Vinchiaturo. Qui aveva un salone da parrucchiere e tutti la ricordano per il suo sorriso e per la grande gioia di vivere. A 1.30 circa stava attraversando quel tratto di strada quando un 26enne di Baranello sopraggiungeva a bordo della sua auto. Il ragazzo, che non si è fermato a prestare soccorso dopo essersi costituito in questura, ha ammesso le sue responsabilità anche davanti al procuratore Giuliano Schioppi, che lo ha interrogato in tribunale. È indagato a piede libero per omicidio stradale e ha dichiarato di non essersi accorto di quella figura che sbucava dal margine della carreggiata, di aver fatto poi il possibile per evitarla e di aver proseguito la corsa per paura. Il 26enne è risultato negativo alle analisi tossicologiche e all'alcol test e il suo legale, Giuseppe Fazio, ha sottolineato che sono state effettuate verifiche anche sul cellulare. Al momento noi aspettiamo che le indagini proseguano, anche in ordine ai filmati che parevi fossero, aspettiamo di poterli visionare, ma successivamente. In fase di indagini ovviamente non possiamo in questo momento accedere a questi atti. Dal canto nostro abbiamo dato tutte le notizie utili perché le indagini possano proseguire in modo celere e ci siamo affidati totalmente alla magistratura perché faccio il suo corso alla quale abbiamo dato ampia collaborazione, sottoponendoci ieri sera volontariamente agli esami dell'alcol test e del drug test. I risultati entrambi negativi, quindi assolutamente non presenza di alcol o di qualsiasi tipo di droga. A questo abbiamo anche aggiunto volontariamente l'esame del cellulare, da cui risulta assolutamente che in quel momento non fosse stato fatto uso da parte dell'assistito e purtroppo l'incidente ovviamente c'è stato e è stata una tragica fatalità che ha portato, ahimè, a quello che tutti poi sappiamo. Distrutti i parenti, sotto shock gli amici che hanno pregato e sperato che Nicoletta ce la facesse. L'ultimo saluto nelle prossime ore nel suo paese natale. Cliente furioso picchia un noto avvocato di Isernia procurandogli ferite guaribili in ben 41 giorni, è caduto nella città Pentra nelle scorse ore. La diatriba era nata per un presunto debito pregresso del cliente nei confronti dell'avvocato, si era recato nello studio, l'ora era tarda, lo studio era in chiusura e quindi l'avvocato non l'ha fatto entrare. Da qui è nata l'aggressione, a cui hanno assistito anche diverse persone. Sul posto è intervenuta la squadra volanti della questura, immediatamente è stata allertata un'ambulanza e sono finiti entrambi al pronto soccorso. L'avvocato, come detto, con una prognosi di 41 giorni e l'aggressore con una prognosi di due giorni, l'aggressore che a sua volta ha sporto denuncia, gli agenti dopo aver raccolto le testimonianze delle persone che erano sul posto hanno denunciato il sessantenne, si tratta di un sessantenne della provincia di Isernia che dovrà rispondere ora di lesioni personali gravi. Durante un controllo in un casolare che si trova alla periferia di un comune della provincia di Isernia, i carabinieri hanno scoperto animali abbandonati e segregati in precarie condizioni igieniche. Cinque ovini erano immersi letteralmente nel letame, cinque cani erano rinchiusi in uno spazio ristretto, non avevano né da mangiare né da bere. Il proprietario di questo casolare, un cinquantenne del posto, non ha fornito alcuna spiegazione su quanto accadeva in quella struttura, è stato quindi denunciato per maltrattamenti di animali. Il veterinario dell'ASRAM che è intervenuto ha certificato le pessime condizioni in cui erano gli ovini e i cani smagriti e malnutriti, non solo perché nell'area adiacente al fabbricato i carabinieri hanno rinvenuto un deposito non autorizzato di rifiuti speciali, c'erano tre auto, un motorino, vari elettrodomestici e quindi il cinquantenne deve rispondere anche di deposito incontrollato di rifiuti speciali, oltre che di maltrattamenti di animali. Ed ora il maltempo. La protezione civile del Molise ha diramato per le prossime ore un'allerta gialla. Su tutta la regione sono previste nevicate a quote superiori ai 300-500 metri e locali fenomeni a quote inferiori. La zona particolarmente interessata dai fenomeni nevosi sarà l'Alto Molise. Criticità gialla anche per i venti previsti da moderati a forti dai quadranti nord-orientali. Il mare sarà da molto mosso a localmente agitato, quindi arriva la neve per la gioia degli appassionati di sci. Ed ora parliamo di un settore che è sempre più in crisi, è quello dell'edilizia. Negli ultimi anni sono stati persi 4.731 posti di lavoro. L'ennesimo allarme è stato lanciato questa mattina dall'ACEM, l'associazione dei costruttori edili del Molise, pronto un consorzio di imprese per i lavori del CIS. Sentiamo Pierluigi Boragine. Negli ultimi anni gli occupati sono scesi da 9.814 a 5.083, un saldo negativo di 4.731 posti di lavoro. Il numero di imprese attive è sceso da 1.713 a 1.160. La massa salari complessiva da 70 a 34 milioni di euro. L'edilizia ha perso oltre il 50% degli addetti e del monte salari in pochi anni e in prospettiva l'ennesimo grido di allarme dell'ACEM, solo incertezze accentuate dalla mancanza di risposte e dalla difficoltà di interloquire con la classe dirigente regionale. Stiamo tornando un po' indietro, stiamo perdendo commesse, abbiamo programmazioni che purtroppo non riescono a soddisfare la domanda di tutte le aziende presenti sul territorio, quindi ci troviamo spesso e volentieri anche costretti ad uscire fuori dalla regione, a cercare altre commesse, quindi quello che noi chiediamo in particolare è quello di aumentare la massa delle programmazioni, avere programmazioni più forti che possano soddisfare la domanda di tutto il territorio. Il post-sisma, la ricostruzione, i fondi non riscossi o riscossi in ritardo rispetto a ciò che avviene in altre regioni, la lentezza dei pagamenti degli appalti, le preoccupazioni per il 2020 di un settore che una volta era la locomotiva dell'economia molisana. C'è stato un lieve miglioramento, però c'era anche stato promesso che prima della chiusura dell'anno ci avrebbero liquidato altre somme, che però questo purtroppo non è avvenuto. Un piccolo allineamento diciamo che c'è stato con i pagamenti, però stiamo sempre fuori da quello che sono le regole nazionali, non riusciamo ad arrivare alla soglia di 60-90 giorni. La Speranza è in una seria programmazione di grandi opere che servono al Molise e nel CIS siamo pronti a costituire, le parole del direttore Gino Di Renzo, un raggruppamento di imprese, un consorzio capace di partecipare e aggiudicarsi. I grossi appalti, il timore esplicitato anche all'amministratore di Invitale Arcuri è che le risorse non restino sul territorio e non ci siano ricadute reali su occupazione e lavoro. Dal 7 gennaio le imprese interessate potranno contattare gli uffici dell'ACEM per manifestare la propria disponibilità a far parte del consorzio, indicando requisiti economici, tecnici e professionali. Nel corso dell'incontro di stamattina è stato inoltre tracciato il bilancio dell'attività svolta, la partecipazione al progetto Rinnoviamoci, seminari sullo sblocca cantieri, la protesta al decreto fiscale definito un groviglio di burocrazia e uno sperpero di denaro. La chiosa è toccata al vicepresidente Angelo Santoro, da 15 anni punto di riferimento dell'associazione. L'edilizia è in ginocchio, ha detto, ma non bisogna mollare. In ultimo un pensiero commosso all'avvocato Edmondo D'Antonio, direttore e consulente dell'associazione e a Giovanni Bucci, presidente della Cassa Edile del Molise, che hanno lasciato un vuoto incolmato. La consigliera regionale Mena Calenda denuncia i disagi che stanno vivendo i pazienti del reparto di emodialisi dell'ospedale di Venafro. Da circa 10 giorni sono costretti a raggiungere l'ospedale di Isernia per le terapie quotidiane. Ancora una volta mi trovo a segnalare l'ennesima problematica che colpisce idealizzati del Molise. Da circa 10 giorni, ribadisce appunto Mena Calenda, un guasto al generatore elettronico non permette l'utilizzo di un macchinario fondamentale per la dialisi. I pazienti sono costretti a sottoporsi alle cure mediche nel presidio Pentro, dunque devono affrontare un trasferimento che risulta molto debilitante. La presidentessa della quarta commissione consigliare quindi ha dichiarato che i guasti ai macchinari medici sono aspetti contingenti con cui purtroppo si deve fare i conti, ma il reparto Venafrano di emodialisi negli ultimi mesi ha dovuto far fronte a numerose problematiche e quindi la Calenda chiede un intervento immediato per risolvere questo problema. È stato celebrato oggi il 56esimo anniversario dell'istituzione della regione Molise, un'occasione in cui il governatore Donato Toma ha voluto ribadire dei concetti importanti. Il Molise ha detto che grazie all'autonomia ha vissuto una stagione esaltante e gratificante, una conquista che negli anni ha portato innumerevoli benefici. Uno dei tanti esempi è l'università. La domanda che dobbiamo porci oggi, continua Toma, è se sussistano ancora le ragioni perché si possa guardare all'autonomia regionale con rinvigorito fervore, in un quadro di contesto mutato, soprattutto alla luce delle modifiche apportate al titolo quinto della Costituzione. La risposta potrebbe essere affermativa nella misura in cui si riuscisse a ridisegnare una nuova architettura di regionalismo. Autonomia per una piccola terra come la nostra vuol dire rispetto e considerazione per una specifica identità territoriale, per le tradizioni locali, per i prodotti enogastronomici, per le peculiarità storiche, artistiche e culturali. Un'autonomia che però non deve costituire motivo di isolamento. Polveri nell'aria a Venafro. L'ARPA certifica che è stato superato il limite massimo di sforamenti. Ormai l'emergenza inquinamento è evidente. Sentiamo Nicola De Santis. La centralina dell'ARPA di Via Campania a Venafro certifica che nel 2019 è stato raggiunto il limite massimo di sforamenti ammessi dalla normativa vigente. 35 superamenti quotidiani nell'arco dei 12 mesi. A fine dicembre la città ha tagliato il poco invidiabile traguardo, quasi fosse una metropoli. E senza considerare i giorni in cui la centralina è stata spenta perché in manutenzione. Insomma, dagli allarmi si passa alla necessità di contromisure da adottare per legge. A ciò bisogna aggiungere il picco toccato dal PM 2.5. Il particolato fine è ancora più pericoloso e dannoso per la salute. E il 17 dicembre ha raggiunto il livello di 87, su un limite di 25 microgrammi per metro cubo di aria analizzata. Intanto lo studio epidemiologico di tipo eziologico ancora non parte, perché ancora non viene firmata la convenzione tra Comune di Venafro e CNR di Pisa. Il Ministero della Salute ha riconosciuto in qualche modo l'emergenza sanitaria nella piana, eppure non sono stati ancora adottati i provvedimenti. Adesso le autorità preposte dovranno affrontare il tema del superamento del limite massimo di PM 10. Venafro è l'unica città del Molise ad aver registrato sforamenti. Fatta eccezione per la centralina di Termoli 2 che ha registrato un paio di superamenti a fronte dei 35 registrati per Venafro. Ormai l'adozione di provvedimenti è improcrastinabile. Ed ora parliamo del futuro dell'Unilever di Pozzilli, perché il sindacato CISAL continua a chiedere chiarezza ai vertici della multinazionale che replicano non delocalizzeremo. C'è però il timore che, se verrà incrementata l'attività nella sede di Casal Pusterlengo, quella di Pozzilli possa essere effettivamente depotenziata. Nonostante le rassicurazioni di alcuni sindacati e del governatore Toma, la CISAL continua a pretendere chiarezza sul futuro della Unilever di Pozzilli. Mai nei 40 anni di storia di questa fabbrica è successo che a dicembre non ci fosse chiarezza sui volumi per l'anno che sta per iniziare, ha dichiarato il responsabile territoriale CISAL Antonio Martone. Mai successo che a dicembre non ci fosse il dettaglio dei volumi linea per linea e trimestre per trimestre. Tutto ciò in concomitanza con notizie, anche queste poco lusinghiere, di test a Casal Pusterlengo, di produzioni storicamente allocate a Pozzilli, di investimenti a Porsan Light e a Nirbator, e con Pozzilli esclusa dai progetti dell'industria 4.0, di cui si è discusso ad un tavolo nazionale che volutamente ha escluso la CISAL, sindacato cheppure rappresenta da sempre la maggioranza dei lavoratori della fabbrica di Pozzilli. La risposta alle nostre domande è sempre stata non ci sarà alcuna delocalizzazione, ma se la produzione si spostasse a Casal Pusterlengo, nei fatti non avremmo alcuna delocalizzazione. Lo stabilimento di Pozzilli però chiuderebbe ugualmente i battenti. Per tanti anni i direttori che si sono susseguiti a Pozzilli ci hanno detto che dovevamo competere con Casal Pusterlengo e che prima o poi l'azienda avrebbe scelto tra Pozzilli e Casal Pusterlengo. Negli ultimi 15 anni i direttori hanno affermato anche che non è possibile continuare a lungo con due fabbriche italiane nel network. Ed allora chiediamo, è forse arrivato questo momento? È congrua la risposta aziendale rispetto ad una disamina puntuale e precisa che nessuno può smentire? Cosa intende fare Unilever della fabbrica di Pozzilli nei prossimi 3-5 anni? Una domanda sindacale così precisa e puntuale si ottiene una risposta da Unilever con la frase non esiste un piano di delocalizzazione significa che si vuole rimanere nell'ambiguità con uno slogan a doppio effetto. Insomma, ciò giustifica i nostri ulteriori dubbi e ci porta a chiedere ancora ma cosa significa veramente non delocalizzare? E perché non si risponde alla vera domanda? Unilever intende mantenere i livelli produttivi e occupazionali anche nei prossimi 3-5 anni? Oppure si sta preparando alla dismissione della fabbrica di Pozzilli? Esiste un piano per valorizzare lo stabilimento dopo ben tre ristrutturazioni in otto anni? La fabbrica è passata da 230 addetti del 2011 a 150 addetti di oggi dove saranno allocati gli attuali volumi di Ciff e Coccolino nel 2021? Esisterà ancora una fabbrica a Pozzilli tra tre anni? Aspettiamo risposte chiare Ha concluso Martone C'è molta apprezzione tra i fedeli di Colli e Alvolturno per la salute di Don Vincenzo Frino il giovane parroco del paese ricoverato in gravi condizioni alla casa sollievo della sofferenza di San Giovanni Rotondo nei giorni scorsi era stato sottoposto a un intervento chirurgico era stato poi regolarmente dimesso nelle ultime ore però le sue condizioni hanno subito un aggravamento pare sia stato colpito da setticemia i cittadini hanno organizzato per le prossime ore una veglia di preghiera nella chiesa di San Leonardo a Colli a Volturno bilancio di fine anno per la raccolta differenziata dei rifiuti a Campomarino sono stati raggiunti dei risultati incoraggianti per il futuro si prevede l'installazione di fototrappole e anche di telecamere di sorveglianza Giovanni Cannarsa Dati incoraggianti per il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti a Campomarino a presentarli il sindaco Pierdonato Silvestri e l'assessore all'ambiente Antonio Saburro con la struttura comunale il 2018 ha rappresentato una sorta di anno zero con una percentuale che si aggirava intorno al 19,51% di raccolta quest'anno invece dati ufficiali alla mano il comune rivierasco ha raggiunto il 62,28% grazie al lavoro svolto dalla ditta incaricata che ha investito su di un nuovo modo di raccolta ad iniziare dalle eco-isole a Lido che si sono rivelate fondamentali per il conferimento dei rifiuti sono state fatte anche sanzioni ma più che altro è stata impostata una nuova tipologia di conferimento non abbiamo risolto ancora tutte le problematiche relativamente a questo comune perché comunque è un comune ampio è un comune costiero dove c'è comunque l'abbandono tanto però diciamo che stiamo sulla scia buona per poter arrivare a un risultato che è quello che tutti quanti ci ospicchiamo cioè sempre una maggior differenziata è sicuramente un territorio più pulito sicuramente c'è stato molto lavoro da parte di tutta la prestazione ma anche della Giuliani che anche quest'estate ha fatto un ottimo lavoro Il servizio è per il momento gestito dalla Giuliani per conto dell'Unione dei Comuni del Basso Biferno dal quale Campomarino uscirà tra qualche anno per volontà dell'amministrazione comunale nel 2018 sono stati conferiti in discarica 4.989 tonnellate di rifiuti mentre quest'anno solamente 3.652 che merita un appalto che sicuramente è diverso perché con questo fatto che bisogna comunque mettere la testa sanitaria e quindi comunque il conferimento viene fatto in maniera diversa sicuramente è un motivo a vantaggio per non far venire gente da fuori comune per poter venire a conferire a Campomarino e questo dato è stato probabilmente lambante perché comunque abbiamo avuto minor quantità di rifiuti in questo comune con una percentuale che si è attestata sopra il 62% Visti buoni risultati il comune di Campomarino invita la cittadinanza e i turisti in estate alla collaborazione per il futuro diverse novità a partire dalla videosorveglianza Se da una parte pretendiamo dalla ditta che faccia sempre più il lavoro che sta già facendo noi ci impegniamo sicuramente ad aumentare i controlli con fototrappole e con maggior vigilanza ci stiamo lavorando molto in tema di ambiente anche con campagne di sensibilizzazione speriamo che il tutto possa portare a un risultato sempre migliore per Campomarino Ed ora inebriamoci di musica con la traviata di Verdi che è stata eseguita con grande successo ieri a Montagano Un successo la rappresentazione della traviata proposta ieri sera dall'associazione musicale Achille Pistilli di Montagano il concerto di Natale è un appuntamento divenuto tradizione e quest'anno l'associazione l'ha voluto dedicare al ruolo culturale svolto dalle bande musicali nel corso del 1900 un ruolo importantissimo sottolineato in apertura da Nicola Muccino presentatore e narratore dell'arrangiamento per banda dell'opera di Giuseppe Verdi che rimane a tutt'oggi una delle più rappresentate al mondo le bande, ha precisato Muccino, sono riuscite a far conoscere ad un popolo per lo più analfabeta la musica e le storie di vita, di costume, di cultura di un'Italia, quella delle feste e dell'opulenza lontanissima dalla realtà quotidiana delle aree agricole meridionali il concerto ha proposto i temi musicali più famosi e la voce del narratore ha raccontato la storia di Violetta e Alfredo innamorati destinati ad una sorte crudele il soprano Melissa Agostinelli nel ruolo di Violetta il tenore Eros Antonelli, Alfredo e il baritono Gianluca Dezzi nella parte del papà di Alfredo sotto la meravigliosa direzione di Clara Galuppo hanno incantato ed emozionato la platea il sindaco Tullo ha ringraziato l'associazione per il prezioso ruolo culturale che svolge e consegnato una targa alla direttrice toccanti le parole del presidente dell'associazione Pistilli Verena Müller che ha invitato genitori e presenti ad invoiare i ragazzi allo studio della musica l'arte che aiuta ad esprimere i sentimenti dell'animo umano non meno significativo il messaggio di Matilde Caterina che in apertura di serata ha voluto portare gli auguri dei musicisti con una sua composizione il dialetto montaganese la serata si è conclusa con l'esecuzione di brani natalizi del coro dei bambini un augurio di felicità di speranza per il futuro la confesercenti una notizia di servizio adesso rende noto che a causa del maltempo l'evento Campo Basso in Fiera è stato rinviato la manifestazione si svolgerà il prossimo 5 gennaio e come da consuetudine l'iniziativa che era in programma l'ultima domenica del mese si svolgerà regolarmente però il 5 gennaio quindi un annuncio per tutti coloro che volessero recarsi a Campo Basso in Fiera abbiamo già parlato dell'arrivo della neve ma vediamo nel dettaglio cosa prevede il meteo Previsioni del tempo per sabato 28 dicembre l'alta pressione si spingerà verso nord-est favorendo la discesa di correnti fredde che porteranno a un netto calo delle temperature con possibili nevicate anche a bassa quota queste le temperature nei maggiori centri della regione Campo Basso 0-2 Isernia 0-2 Termoli 9-10 Venafro 1-2 gradi Ed ora solo qualche istante di pausa restate con noi perché tra poco c'è lo sport Ed eccoci ritrovati per parlare di sport partiamo dal calcio e dal Campo Basso che è reduce da 5 vittorie consecutive da 9 risultati utili messi in fila e nonostante il distacco dalla vetta sia di 12 punti il centrocampista Leonardo Brenci crede nella possibilità di avvicinarsi al vertice la strada è in salita ha detto ma tutto è possibile sentiamolo è una mezzala ma sta imparando a giocare bene da playmaker Leonardo Brenci è una delle rivelazioni del Campo Basso che ha saputo rigenerarsi e risorgere dopo le difficoltà iniziali davanti alla difesa ce l'ha messo Mirko Cudini e da allora la squadra ha trovato quell'equilibrio che mancava è un ruolo che avevo fatto in passato poi dopo nelle ultime stagioni avevo accantonato perché avevo giocato sempre da mezzala però ecco con l'occasione che mi è stata data mi sono adattato cerco di migliorarmi in settimana e cerco di fare il meglio quando scendo in campo la domenica 5 vittorie di fila 9 risultati utili consecutivi il Campo Basso ora è una squadra compatta forte determinata bella da vedere un'altra cosa rispetto all'undici che all'inizio di stagione ha fatto disperare i tifosi rosso-blu un lupo diverso anche grazie all'unione del gruppo cementata fuori dal rettangolo verde diciamo che viviamo insieme 24 ore su 24 perché la maggior parte dei ragazzi siamo in hotel insieme mangiamo insieme quindi anche questo vivere la quotidianità insieme ci aiuta a fare gruppo a stare uniti e questo lo riportiamo anche in campo e si vede anche soprattutto nelle ultime uscite meno 12 dalla vetta recuperare è difficile ma non impossibile non per questo Campo Basso Brenci ci crede e suona la carica penso proprio di sì dobbiamo pensare partita dopo partita come abbiamo fatto dall'inizio sicuramente è tutto tutto in salita però con con la tranquillità l'umiltà e la voglia di fare sicuramente diremo la nostra ed ora la pallaccanestro femminile scopriamo insieme il quadro delle partite in programma domani per la quattordicesima stagionale in serie a due si giocano tre partite Livorno Viterbo Magnoli a Campobasso Pistoia con palla due alle 18.30 e San Giovanni Valdarno Faenza le altre partite si erano già giocate e allora nel servizio di Vincenzo Ciccone andiamo a sentire i motivi della vigilia di questa penultima gara d'andata ultima dell'anno per la Magnolia a Campobasso come abbiamo visto contro il ponte Bugianese sentiamo nessuna sosta per le festività natalizie per la Magnolia a Campobasso domani pomeriggio per la penultima gara d'andata il rosso blu torneranno sul parquet del Palavazzieri per vedersela con il ponte Bugianese le Toscane dopo un avvio scintillante hanno dovuto fare i conti con qualche passo falso di troppo ma rappresentano comunque una formazione temibile con tre elementi come l'ala Pappalardo l'esterno ex Civitanova Marche Perini e la lunga Boema Bociobrasca di sicuro affidamento a proposito di lunghe tra l'altro coach Sabatelli dovrà fare a meno anche in questa circostanza di Lucia Di Costanzo per la pivot partenopea un'altra settimana di lavoro differenziato in previsione a referto ma non nelle rotazioni anche l'under Giorgia Amatori in ripresa dalla distorsione impatita durante un match giovanile per il resto invece tutte presenti le giocatrici rosso-blu e pronte a dar vita ad una gara di concretezza in difesa di assoluta sostanza in attacco all'aprile del match sarà Teddy Biltosse al primo canestro della contesa infatti tutti gli spettatori potranno gettare sul parquet un peluche per rendere ancora più carico di significato il loro natale cestistico la gara con il ponte Bugianese inoltre potrebbe consegnare alla rosso-blu già qualificata per la Coppa Italia il titolo di campionese d'inverno e questo era il nostro ultimo servizio che come sempre vi ricordo potete rivedere online tramite la pagina Facebook o il sito di Teleregione TeleregioneMolise.it grazie per essere stati in nostra compagnia e da parte mia l'augurio di un buon weekend arrivederci grazie a tutti